Il Napoli aguanta la semifinale di Coppa Italia tre minuti dal termine del confronto con il Bologna quando la sua credibilità pareva ormai definitivamente compromessa. Ha detto subito però che almeno in campo i problemi al Napoli non li crea Maradona. Al contrario, Diego Armando è stato il migliore in assoluto per impegno e per qualità del gioco. Ha colpito un palo e sono tutti i suoi gli assist che hanno dato i tre gol al Napoli. Da questa sera semmai il Napoli ha un problema in più che si chiama Alemau visto che il brasiliano è stato sostituito all'inizio della ripresa per manifesta e si dice anche volontaria svogliatezza. Il Bologna aveva saputo approfittare al massimo dei mali del Napoli affidando al rapidissimo Schenardi il compito di colpire in contropiede come puntualmente faceva portando in gol Mariani all'ottavo della ripresa. Era necessaria però l'espulsione di Mariani ad opera di Beschin per dare concretezza agli attacchi del Napoli. Meglio delle parole possono le immagini riproporci tutta l'intelligenza calcistica di Maradona. È così che manda in gol Mauro al 26esimo e poi alla volta di Ferrara al 42esimo e appena prima della chiusura con questo lancio propone ad incocciati il pallone del definitivo 3 a 1. Si passa il turno ma ci sono sicuramente delle indicazioni positive per quanto riguarda il campionato soprattutto questa grazia.